Ma guarda un po' la situazione, devo fare il telegiornale, mandaggi a Cribbio, BQS, ma i ragazzi dove sono qua? Qua è tutto all'oscuro, io devo fare il TVG, il telegiornale. Dottore, state in onda da mezz'ora. Scusate, buonasera, dal TG, 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 salute, grazie, dal vostro reporter, Andrea Ducella, chiedo scusa, toglietemi l'auto di ritorno perché sento voci streni in sala e non riesco a parlare, capito regia? Sì? Devo andare, ah, siamo in diretta? Scusate, Napoli, per la strada di via Roccococchia. Buonasera, Rocco. Ci è stata segnalata la foto del noto attore. No, non per posto, scusate. Regia, la foto, la foto, la foto. E che è questo, Milano? L'abbiamo scovato. No, portamandò io e mi raccomando e non mi ha avuto tre settimane fa con la sua ragazza che facevano beneficenza. E noi si erano distrutti, orgogliosi di farlo. di questi grandi attori. Molte fammi. Per la loro benevolenza. E saremo tutti una maniata fatendo, se levo scuola. Contenti se prendessimo esempio. Che già ci hanno fatto funerare. Vi dicevo un esempio. Senta su. Che cambierebbe la vita a volte. Cosa fatendo, scegliere. Persone. Per altre notizie. Quando io riuscite venerdì alle ore 15. Ci sentiremo per le ultime notizie, domani mattina, alla solita ora. E se no... Sono molti, e ti amare. Dico alle ore 14. Bene, la vostro amico Andrea Nocella. Stacolta Franciac. Buonasera a tutti. Regia, sigla. E non ti favore più. Cosa? Regia, ma come tu hai sentito strani voci? Sembrava avere. Regia, sigla. Dottore? Si? Vi dica. E' il telefono di tua moglie. E' aperto. Vai io, smutate la luce. Buonasera. Si. Vai io, regia. Smutate la luce. Puoi. Io e capite. Vabbiamo.